Buona serata a tutti, Pogba, il CAS, questa è una breaking news, riduce la pena, come riportato da me, il Sport Abola, il centrocampista francese, avrebbe ritenuto, ricevuto una riduzione sostanziale da 4 anni a 18 mesi dalla corte arbitrale dello sport, questo è l'acronima, il caso francese potrebbe tornare a allenarsi con la Juve alla Continassa da gennaio e potrebbe tornare a giocare gare ufficiali da marzo, anche la sua multa inizialmente prevista sarebbe stata ridotta dopo la sentenza, ricostruiamo velocemente, il caso risale al 3 settembre 2023, l'ultima sua apparizione in campo, 28 minuti nella trasferta vittoriosa di Empoli, poi il suo mondo, le certezze sono un po' precipitate, un po' tanto, positivo all'antidoping, sospensione contro l'analisi del laboratorio acquacetosa che ribadiscono il risultato positivo, il procedimento aperto dalla procura antidoping, la scelta di affidarsi allo studio legale britannico per difendersi, il suo professarsi innocente, invocando la involontarietà dell'assunzione di un integratore consigliato da un suo amico, un medico di Miami, la rinuncia al parteggiamento che gli avrebbe consentito di dimezzare la squalifica di 4 anni, il massimo della pena che arriva invece al 29 febbraio con la sentenza del Tribunale antidoping a cui Pogba presenta ricorso. Pogba ha pubblicato un post su un social emblematico con una clessida rovesciata, non c'è bisogno di interpretazione, ha iniziato il conto alla rovescia per il suo rientro in campo, ha corredo anche una foto con sui piedi i calzettoni della Francia in evidenza, tanti commenti anche di colleghi naturalmente, vediamo ancora, tutte le strade portano alla data dell'appello, fino ad allora il mio obiettivo sarà rimanere in forma e aspettare. Queste sono state le parole di una sua intervista con Cessa Forbes, è difficile essere completamente onesti, il calcio fa parte della vita da quando ho memoria, tuttavia ho la mia famiglia, la mia fede, andrà tutto bene, quindi vediamo ancora, mi sento ancora un calciatore, ha detto Pogba, a Sky voglio combattere contro quella che per me è un'ingiustizia, ho una voglia incredibile di tornare a giocare, mi sento come un bambino che sogna di diventare professionista, mi sto allenando ma non faccio la cosa che amo di più, cioè quella di giocare. Bene, vedremo, sentenza del caso è arrivata, i bianconeri ora dovranno prendere una decisione, riduzione, l'abbiamo detto, da 4 anni a 18 mesi per Pol Pogba, quindi potrebbe tornare alla Juve Tiago Motta che direbbe o che dirà, non lo sappiamo, questa è una breaking news, era giusto darvela, grazie ancora, ci vediamo presto.